Siamo stati molto bravi a saperli controllare e peccato per una disattenzione, però siamo stati quasi perfetti. Il mister ci aveva comunque chiesto di essere molto compatti, uniti, corti e allo stesso tempo non abbassarci troppo perché altrimenti ci schiacciavano in nostra aria. Allo stesso tempo noi dobbiamo comunque essere uniti e corti ma comunque nella parte alta del centrocampo per comunque dare meno rischio alla nostra porta e poi quando riconquistiamo palla di ripartire. Siamo stati comunque a tratti molto bravi ma allo stesso tempo venire qua e cercare comunque di sacrificarsi, cercare di aiutarsi reciprocamente, questo dà molta fiducia e delle sensazioni molto positive quando uno sta in campo, quindi c'è reciproca fiducia tra compagni. Merito dallo staff, la componente che c'è fuori dal campo, ci sono dei grandi professionisti, delle persone che ci mettono al corrente di poter lavorare molto bene e quindi merito un po' di tutti. Noi abbiamo cercato di limitare le loro qualità e cercare comunque di fargli trovare poco spazio ma sicuramente sarà un Inter che alla lunga uscirà fuori.